Pensa il fatto che loro hanno fatto un tiro in porta e ha fatto un gran gol. Poi possiamo discutere se ci può essere stato un infortunio, comunque ha fatto un gran gol. Sul piano dell'atteggiamento non posso rimproverare nulla ai ragazzi, assolutamente nulla, hanno dato tutto, abbiamo avuto delle occasioni. Penso che abbiamo sempre tenuto bene il campo, probabilmente nel primo tempo potevamo fare qualcosina in più. Sto vedendo anche certe situazioni che poi riesci a vederle in partita, però obiettivamente il risultato ci penalizza troppo oggi. Sono abbastanza onesto, quando uno merita di perdere è una sconfitta meritata. Mi dispiace per i ragazzi perché ti fa lavorare male, la verità è questa. Io devo cercare delle certezze, andare a cambiare subito, che poi nel secondo tempo l'ho fatto. Però ripeto, non è il modulo, è l'interpretazione che hanno dato i ragazzi. Probabilmente il 3-5-2 potrebbe risultare un po' troppo piatto, però ripeto, noi abbiamo rischiato nulla. Ci siamo messi a quattro, se ci fanno il secondo gol si mette male alla partita. Quindi è sempre l'interpretazione. I ragazzi oggi hanno avuto sia in un modo che nell'altro l'interpretazione giusta. Hanno fatto quello che io gli ho chiesto, le uscite. Il rotonda dopo dieci minuti ha rinviato sempre con il portiere. Io conosco il loro allenatore, è una squadra che prova a giocare a calcio. Hanno sempre e solo rinviato. Non mi ricordo un fraseggio, hanno solo rinviato. La fisicità in mezzo al campo, loro sono una squadra fisica. Però noi tecnicamente penso che la partita l'abbiamo fatta. Guardiamo gli episodi. Loro hanno fatto un gran gol e noi a mezzo metro dalla porta, non so come è stato possibile, ha colpito l'avversario sotto la traversa. È inspiegabile, è sfortuna. Oggi è stato secondo me l'episodio. Poi, tatticamente, sicuramente possiamo lavorare su qualcosa di diverso. A me era importante anche capire gli interpreti, quello che mi possono dare in tutte le circostanze. Esatto, in tutte le circostanze. Quindi andare lì e lavorare in una settimana su un altro modulo, probabilmente ho pensato che potevo creare solo della confusione. Adesso ho le idee abbastanza chiare sui giocatori che abbiamo. Però, ripeto, la squadra, anche il primo tempo, non abbiamo avuto delle occasioni molto chiare. Il secondo tempo ne abbiamo avute tantissime. Però, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. C'è mancato il cross, c'è mancato l'ultimo passaggio, c'è mancato il gesto tecnico che metteva nelle condizioni il compagno per andare. Però, io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Penso che sia evidente che perdiamo una partita dove noi abbiamo fatto 5-6 tiri. Non so gli episodi, non so se c'era un rigore. Tutti mi dicono che c'era un rigore abbastanza letto. Non so il gol di Tedesco se effettivamente ha stoppato la palla con il braccio. Però, sono stati annullati due gol, un rigore annullato e l'ultima palla, non so com'è, non si è entrato. Sono sincero. Il calcio è fatto gli episodi. Però, ci sta, è pertinente come domanda, ma non era il momento, secondo me. Chacon è un buon giocatore e lo ha dimostrato. Veniva da... La società si sta sforzando, sta facendo... Io ho detto l'altro giorno che ho trovato una società veramente che si è messa a disposizione. Sono veramente felice di poter stare qui in questa società perché ci stanno provando in tutti i modi. Non dimentichiamo che abbiamo dei giocatori infortunati. Non puoi rinunciare a Palazzo, non puoi rinunciare ad Acampora. Sicuramente non posso rinunciare all'under in porta, però oggi era una parte delicata. Ho dovuto fare quel tipo di scelta. Ci sono un po' di situazioni che dobbiamo affrontare. Però, ripeto, ci sono giocatori infortunati fuori determinanti, secondo me. Noi continueremo a lavorare innanzitutto sull'intensità che oggi i ragazzi hanno corso dall'inizio alla fine e non si sono risparmiati. Ripeto, l'altro giorno ho detto che voglio tracciare una linea e non sto a fare i paragoni con quello che era. Io quello che ho visto oggi ho visto una squadra che ha corso più degli avversari. Questo ne sono certo. Sarò curioso di vedere i dati del GPS, però i ragazzi hanno spinto. Poi, come hanno spinto e quanto hanno tenuto, ci sta. Alcuni giocatori a una certa sono andati in dentro.